Amici di Milan.soccer, eccoci con un appuntamento straordinario dedicato al Milan, all'informazione rossonera. Sta succedendo veramente di tutto, credo che abbiate visto la copertina, ma c'è molto di più rispetto a quello che abbiamo anticipato. Prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale qui sotto, farlo è gratuito, e di mettere un like a questo video. È una giornata oggi speciale perché il Milan deve in qualche modo perlomeno aggredire il secondo posto, e per farlo ha bisogno di vincere a Roma contro la Lazio. Ma questo paradossalmente è un dettaglio rispetto a tutto quello che sta succedendo. Dunque, prima di iniziare, vi ricordo come sempre, se volete essere tifosi speciali, di andare a dare un'occhiata al sito www.milan.soccer. Potrete così avere il diploma di veri cuori rossoneri, di tifosi, super tifosi rossoneri. Allora, notizia importante e finalmente, devo dire, vista e considerato che tante critiche sono state mosse alla gestione di Gerry Cardinale e soprattutto questo braccio di ferro di cui noi abbiamo dato conto, e non poco, nei giorni scorsi, tra Ibraimovic, Furlani e poi anche altre parti del gruppo di Redbird che sta gestendo questo Milan. Dunque, Cardinale non le manda a dire e veramente butta fuori tutti. E questa è la sua intenzione, nel vero senso della parola, perché ha parlato e ha tirato fuori veramente tutto quello che aveva dentro. Ora ne parliamo approfonditamente. Dice, e questo è quello che conta, finalmente lo vogliamo sentire, ma nei prossimi video però ci metteremo ancora del nostro. Cioè, credo che ognuno, con le proprie idee, con le proprie intenzioni, possa contribuire a muovere questo stato di quiete. Soprattutto, ripeto, per quelli che hanno già sentito i video precedenti, in questo momento storico in cui noi siamo una cenerentola, rispetto a chi cenerentola l'è stato, lo è stato per tanti decenni, per anni, e dunque dobbiamo tornare a vincere. Il Milan, dicevo, vuole vincere, per farlo deve servire, serve un cambiamento, anche in campo. Dice Gerry Cardinale, guarderemo al cambiamento in ogni aspetto della società. Racconta Gerry Cardinale, ma attenzione, con a fianco Zlatan Ibrahimovic, seduto accanto a lui dal palco della Business of Football Summit a Londra. E poi continua, è un'idea geniale, ma che riguarda anche il campo. Quindi c'è un progetto di rivoluzione totale. Mi sono affidato a Zlatan per raccogliere opinioni, prospettive, consigli su un'idea di cambiamento in campo. Tutto attorno al Milan deve cambiare, anche se preferisco usare la parola evolvere. Guarderemo a cosa abbiamo fatto fino ad ora, ai tanti infortuni che abbiamo avuto, ma né io né Zlatan Ibrahimovic siamo soddisfatti del fatto che non siamo i numeri uno, ripeto, i numeri uno in Serie A. Ci stiamo provando, abbiamo una squadra giovane, e se consideriamo quanto è giovane e quanto è nuova, non stiamo facendo male, ma a noi non basta non far male. Abbiamo tanto lavoro, abbiamo tanto lavoro da fare, quindi è lecito aspettarsi un cambiamento. Poi parleremo nelle prossime ore dello stadio, ci sono clamorose novità, quindi seguite questo canale, mi raccomando, attivate anche la campanella per poter rimanere aggiornati. Ma queste parole sono veramente un terremoto, lo dico sincero. Sapete quante critiche ho mosso e muoverò anche nei prossimi video, perché non è sufficiente, oltre alle parole vogliamo i fatti, e allora la criticità la fadremo emergere soprattutto nei prossimi video, visto che qualcosa, non dico noi siamo riusciti a muovere, ma il movimento di migliaia e migliaia e migliaia di tifosi, la squadra più amata in assoluto, siamo riusciti in qualche modo a colpire nel centro, e non con tutti quei lacche che sono lì interessati alla loro poltroncina e magari svendono il loro amore per il Milan. Dicevo, parla anche dello stadio, vale anche per lo stadio, visto che Cardinale assicura che il Milan presto ne avrà uno nuovo. Seguiteci, dicevo, anche per il video che faremo più tardi, dedicato allo stadio, per cui parla e dice abbiamo fatto più progressi in 18 mesi che negli ultimi anni. Parla sempre dello stadio, perché poi, appunto, nei prossimi video parleremo anche del, diciamo così, del curriculum di Gerry Cardinale al Milan. Sarà il primo costruito in Italia dal 2011, uno stadio da 70.000 posti, a cui porteremo le idee di business per un impianto di questo tipo che ci sono già in America. Milano è perfetta per mettere insieme il calcio, la musica, insomma, lo show in generale. Poi parla anche Zlatan Ibrahimovic. Penso che mancherò più io a San Siro di quanto San Siro mancherà a me, dice scherzando, prima di farsi ovviamente serio. ho tanti ricordi, è uno stadio storico, ma in tutto c'è un nuovo inizio. Ci sono moderni modi di fare le cose, con un impianto nuovo lo si può fare. Adesso dello stadio, però, ne dobbiamo parlare con calma, perché a me qualcosa non mi riporta. Ma adesso fermiamoci alle parole, quelle importanti. Il Milan vuole vincere. Gerry Cardinale lo ha detto quando ha buttato fuori Maldini, e allora noi pretendiamo che ora facciano la stessa fine coloro che avevano promesso che la semifinale di Champions League non era sufficiente, coloro che avevano detto che uno scudetto del 2022 non era sufficiente, e non ci possiamo ridurre oggi a fare conferenze stampa in cui accettiamo una sconfitta a 12 giornate dalla fine e soprattutto non ci possiamo accontentare di vincere per andare al secondo posto, semmai ciò dovesse accadere. Non ci possiamo accontentare di uscire così presto dalla Champions League, non ci possiamo accontentare di non lottare neppure per la Coppa Italia, non ci possiamo accontentare di non andare al Mondiale 2025, non ci possiamo accontentare di questo Milan. Non ci vogliamo accontentare se queste parole che noi abbiamo registrato e abbiamo messo in questo video sarà un video che riprenderemo nei mesi prossimi perché le parole sono violente, passatemi il termine tra diecimila virgolette, violente nel senso che così parla un capo popolo, cioè fuori Pioli, fuori l'amministratore delegato, dentro persone competenti, capaci, non perché gli altri non siano competenti, ma competenti e capaci di vincere e non di vivacchiare così. E allora chiudiamo dicendo che nei prossimi giorni noi ci comporteremo come ci siamo sempre comportati, ma questa finestra ci dà un po' di respiro. Continueremo ad evidenziare le criticità non perché non amiamo questi colori, ma solamente perché non amiamo accontentarci, perché non ce lo dimentichiamo mai, noi siamo il Milan. Finalmente, a più tardi. Ciao ragazzi.